Non puoi mangiarla, Happy! È la torta di qualcun altro! E poi chissà da quanto tempo è lì... Potrebbe farti male! Happy! Sei diventato verde! Ti senti bene, Happy? Sì! Oh, bene! Oh, amico! Oh, amico! Oh, amico! Oh, amico! Era la nostra torta! Oh, amico! Ehi! Non puoi piazzarti qui, amico! Siete sopra il nostro campo di carote, ragazzi! Scusateci! Ehi, amico! Sei arrivato! Hai portato il pacco, vero? Uff! Forte, amico! Seguitemi! Lei vi sta aspettando! Evviva! Fate attenzione! È un pochino scivoloso da queste parti! Forte! Mi raccomando, state lontani quando Dougie toglierà la torta dal forno! Sì! Perché sarà molto, molto... Dollente! Wow! Abbiamo fatto tante piccole torte! Uff! Oh, amico! Forti le torte! Le torte sono buone per tutti? Sì! Forte, amico! Ti ho detto che c'erano delle buone vibrazioni qui! Questo yoga mi sta facendo sentire molto... ...saffice! ...morbido! Oh, mi è venuta una posizione, l'uccello equilibrista! Sollevate una gamba e allargate bene le braccia! Forte! L'uccello equilibrista! Non dimenticarti di respirare, Dougie! Ora proviamo il gatto che si stiracchia! Mettetevi sulle ginocchia e allungate le braccia in avanti! Miau! Il gatto che si stiracchia! Oh, questa qui mi piace! Ora proviamo... ...la volpe che dorme! Ah, sembra che si siano tutti calmati adesso! Questi lupetti sono di un altro livello, amico! Credi che ora i lupetti possano aiutarti a verniciare la sedia, Dougie? Oh! Sì! Finito! Bella sedia, amico! Puoi dirlo forte! Non sono stati bravi oggi i lupetti, Dougie? Oh! Ciao, tesorini! Ciao, ciao! Ti abbiamo portato il pacchetto, Ciu-Ciu! Oh, che teleri! Sono contenta che siate qui! Perché non si può bere un buon tè senza dei buoni... Biscotti! Oh! I biscotti! I biscotti! Grazie, tesorucci! Li avevo appena finiti! Non è vero? Salve, dolcezze! Ciu-Ciu! Oh! Grazie al cielo siete qui! Mi si è incastrato il vestito da sposa! Sei tu la sposa? E chi se no? Stai tranquilla, ti tireremo fuori! Tira-te! No! No! No, il mio splendido abito! Non posso sposarmi così! Va tutto bene, Ciu-Ciu! Lo aggiustiamo noi! La signora è pronta? Come sempre! Sì! Finito! Mi sento come una vera principessa! A casa di Norri! Oh! C'è Ciu-Ciu la panda! Oh, piccolini! Mi fa piacere vedervi! Qualcosa non va, Ciu-Ciu! Oh, tesorini! Ciu-Ciu ha un po' di male al pancino! Ho tanta fame! Allora perché non mangi questo bambù? Ciu-Ciu non riesce ad arrivare lassù! Lei è troppo piccolina! Ti aiutiamo noi! Un po' più a sinistra, piccolini! No, 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 no! Un po' più a destra! Perfetto, tesorini! Bambù! Bambù! Bam-bam-bambù! Oh, grazie, piccoli amici! Il mio pancino sta già molto meglio! Perfetto! Arrivederci, Ciu-Ciu! Guarisci presto! Ma certo, tesorini! Oh, santo cielo! Tesoro mio! Tu sei così fruttosa! Uff, uff, uff! Un altro biscotto, Duggy? Mmm! Brrrr! C'è giusto il tempo per un'altra cosa! Un Duggy abbraccio! Oh! Duggy abbraccio! Duggy abbraccio! C'è giusto il tempo per un po' più di...